Esordio in Serie A per Alberto Bertolini, il valtellinese protagonista di grandi imprese nella calcio lecco, prima da giocatore e poi in panchina, domenica sera debuttato nella massima serie in qualità di vice allenatore del Venezia neopromosso. Un match non fortunato per i Lagunari, sconfitti per 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ma che di certo ha regalato grandi emozioni a Bebeto, come sopra ha nominato il tecnico 44enne, ancora nei cuori dei tifosi blu celesti. Nativo di Morbegno e originario di Delebio, dopo essersi formato nel vivaio della società di Via Don Pozzi, ha giocato con la maglia dell'Ecco quasi 160 partite tra il 93 e il 2001, segnando 95 gol, tra cui quello nel derby dell'Ario proprio nel 2001. Nel 2016 il ritorno all'Ecco, ma da allenatore. La situazione è drammatica, la società è in amministrazione straordinaria, ma nonostante ciò Bebeto riesce, alla guida di una squadra di giovani, a ottenere la salvezza in Serie D grazie allo spareggio vinto a Oginate con un gol all'ultimo respiro. Ma Bertolini è legato anche al Sondrio Calcio, che ha allenato subito prima, dal 2014 al 2016, ottenendo una salvezza tranquilla in D il primo anno, per poi essere esonerato quello successivo. Dunque, Sondrio, Lecco e poi su Tirol, non più da allenatore capo, ma da vice di Paolo Zanetti, un sodalizio che non si scioglierà più. Due ottengono grandi risultati in C, segue il passaggio in B con Lascoli e poi con gli arancio-nero-verdi, con cui raggiungono una storica promozione in Serie A. In tanti, tra Lecco e Sondrio, quest'anno faranno il tifo per il suo Venezia.